Alessandra Liviero, direttrice dell'Unità Organizzativa Economia, Mercati e Competitività. Oggi presentiamo dei dati, sono prime valutazioni, ma cosa emerge? Emerge che il settore agricolo, a differenza di altri comparti, se l'è cavata abbastanza bene nel periodo di crisi pandemica che ha visto attanagliare dal punto di vista economico moltissimi settori. Abbiamo un'annata agraria tutto sommato positiva. Se la guardiamo nel complesso, il valore della produzione agricola è aumentato del 4% rispetto al 2020 con un valore della produzione di 6,4 miliardi di euro. Bene sono andate anche le esportazioni e le importazioni. Le importazioni sono cresciute più delle esportazioni. La bilancia commerciale comunque presenta un saldo positivo. indice della vivacità, insomma, anche del mercato internazionale. Ci sono dei settori agricoli che sono il cavallo di battaglia del Veneto? Sì, certo. Sono settori che hanno trainato anche in questa occasione. Non posso non citare il comparto vitivinicolo che ha presentato dati tutti abbastanza stabili, ma continua nella crescita delle esportazioni. Ricordo che le esportazioni di vino Veneto rappresentano il 35% delle esportazioni nazionali. Bene è andato anche il comparto dell'allevamento. Siamo forti nell'allevamento zootecnico e nella zootecnia da latte. Il settore ha avuto buoni incrementi produttivi e di valore della produzione, però è un comparto che sta risentendo molto dell'aumento dei costi delle materie prime ed energetiche, che in molti casi incide negativamente sulla reddittività delle imprese. Il prezzo del latte alla stalla, che è stato spuntato in media nel 2021, sicuramente non ha coperto i costi di produzione per la maggior parte delle imprese. E le questioni climatiche hanno giocato un ruolo importante? Le questioni climatiche sicuramente hanno giocato un ruolo importante, soprattutto per tutta una serie di culture. Faccio riferimento principalmente alle culture, alle frutticole. Abbiamo avuto perdite molto consistenti, parliamo di un meno 80% di rese, per esempio, per il pero, meno 70% per le noci pesche e comunque sempre variazioni a due cifre, 20-30% per melo, ciliegie ed altre frutticole. Questo è stato dovuto alle gelate, porti gelate primaverili, che hanno messo veramente in crisi un settore che già soffre di particolari problemi strutturali. Grazie. 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 Grazie.